La showgir Paola Caruso, ospite di Barabara d'Urso a pomeriggio 5 avrebbe denunciato qualcosa di molto inquietante. La bonus di Avanti Un Altro, si sarebbe ritrovata sommersa da critiche, e anche minacce molto pesanti. La sua passione per Luca Onestini non sarebbe stata accolta molto bene dai fan dell'extronista. Paola mentre Luca era chiuso nella casa del grande fratello Vip, ha mandato un aereo in cui dichiarava di amarlo, e che l'avrebbe aspettato da Barabara d'Urso. I fan di Luca, non avrebbero accettato di buon grado queste dichiarazioni della Caruso, anche perché Onestini durante il grande fratello, si sarebbe avvicinato moltissimo alla modella Ivana Mrazova, una coppia in cui il pubblico crede molto, soprattutto i fan dell'extronista di Uomini e Donne. Paola, quindi sarebbe stata raggiunta da tantissime critiche, di persone che la vorrebbero proiettata verso Luca soltanto per sfruttare la sua notorietà e inoltre, molti utenti, sarebbero addirittura arrivati a minacciarla di morte. Sembra proprio che la coppia Luca e Ivana, abbia già ricevuto l'approvazione del pubblico, e adesso che la Mrazova sarebbe tornata single, chissà che la passione non sbocci davvero tra questi due bellissimi ragazzi. Grazie a tutti.